Le rondini stanno tornando anche nelle nostre località e questa è una buona notizia ma la cattiva notizia che l'accompagna a un'altra non trovano i loro nidi Le rondini infatti sono uccelli molto abitudinari e utilizzano sempre gli stessi nidi spesso distrutti dalla mano dell'uomo Per ignoranza si ritiene così di fare pulizia o per costruire qualcosa e creare spazio commettendo anche un reato in quanto le rondini sono una specie protetta e dimenticando che eliminano ogni giorno circa 3.000 insetti Fino a qualche anno le migrazioni delle rondini nel nostro paese erano diminuite in maniera preoccupante Nel 2013 quasi il 50% in meno di questi uccelli era arrivato in Italia per la primavera rispetto al 2003 Negli ultimi anni questi uccelli hanno ricominciato a nidificare in Italia dopo due decenni che avevano fatto segnare un crollo del 50% Tra le ragioni di questo disastro il cambiamento climatico lo stravolgimento dell'habitat naturale e le frequenti uccisioni delle rondine durante il percorso Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!